Il titolo è la rete sociale, cioè noi crediamo, abbiamo fatto questa riflessione tra gli amici, che in effetti il grande problema di fronte al quale si trova il nostro sistema democratico è trovare un sistema di selezione della classe politica. E allora diciamo cose ovvie, ecco, allora è necessario buttare la pietra nello stagno per rimanere e dire guardate esiste questo problema, abbiamo una situazione, questa la tratteggeremo domani, abbiamo una situazione finanziaria disastrosa, che solo in parte dipende dai tagli che ha fatto il governo. E almeno il 30, il 40%, parlo di milioni di euro, sono attribuibili a una mala gestione delle carte canderali. E questo si è verificato nella totale indifferenza sia delle opposizioni, magari eccetera, non parliamo del sindaco. L'intervista integrale è al termine del telegiornale.